Wella ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati su Electrician Simulator Come sempre ragazzi inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione se può interessarvi trovate un link che vi permette di comprare tanti giochi scontati Vi ricordo anche che in descrizione trovate i miei canali social se può interessarvi Ultima cosa ragazzi, se vi iscrivete al mio canale youtube attivate la campanellina se volete ricevere una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video Allora, vediamo un po' che ci abbiamo da fare, che non mi ricordo, mica tanto Dunque abbiamo un bel po' di cavo, sta bene, no devo vedere i lavori, devo vedere perché, no che devo fare? Questo mi pare che tratta roba poco legale secondo me, mi sa eh Allora ho bisogno del tuo aiuto per una cosa, vedi sono un fan sfegatato delle piante immagino Voglio dire, adoro queste piccole creature verdi ma devo mantenere un basso profilo Faccio il mio meglio per prendermi cura di loro ma le lu... ma le mie luci di coltivazione hanno smesso di funzionare Vabbè ho capito, non è che mi arrestano intanto che ti faccio sto favore, no Va bene, allora acquista, sì E andiamo raga, aspetta il lavoro non l'ho accettato, dove vado? Accettato, sperando che non mi arrestano intanto che faccio il lavoro Perché lui è un fan delle piante, però non lo vuole far sapere a nessuno perché Perché le piante vanno a ruba Oh mi ricordo che mi avete detto Nick c'è il tasto con la torcia Ah eccola Ah perfetto, ce l'abbiamo, ottima Vabbè, di la verità non è che è tanto d'aiuto Ah, interagire è meglio di no Ok, installa le lampade Accendi le lampade, sì, ma le lamp... Dai, un momento Le lampadine Me le dà lui? Scusa Non mi ha fatto comprare delle lampadine Quindi le lampadine a me chi le dà? Installa le lampadine Eh ma non me le ha fatte comprare Ok, fatemi ricaricare la partita Meno male che lui fa un salvataggio ogni volta Cioè dico scusa ma lei lui ci do stanno Non me le ha fatte comprare Scusami Fammi rivedere Allora, articoli suggeriti Ho capito Ma le lampade chi me le dà le lampadine da latino qua? Lampada Eh, cavo Ho capito E le lampadine? Installa le lampadine Dove le prendo queste lampadine? Capito? Ma le lampadine? Non lo so Non so neanche che lampadine ci devo mettere Ma cerco Cerco Riscaldante Con riscaldante non trovo niente Lampadina Oh io Beh, lampadine Ok, queste Lampadine Bianche Ne compro quattro raga Beh, valla a capire Io le ho comprate Speriamo che Speriamo che sono quelle Perché io non ci sto a capire niente Allora Ok Vediamo se queste lampadine No Oh, oh Oh, non si vede niente Caspita E E' giù di prima Ma che C'è C'è qualcosa che non qua Ok, non so queste Le lampadine Senti, fammi una cosa Allora Facciamo l'impianto per ora Va Io non Non sto bene a capire la situazione Ok, allora Il cavo arriva fino a qua E ora Io faccio l'impianto E tanti saluti No Boh Facciamo che arriviamo Più o meno qua Vabbè Arriviamo qua Ok Il cavo ce l'abbiamo Facciamo l'impianto Scusa Ah già Ah già E' vero che Non lo so il perché Ma il gioco Lo hanno semplificato Di brutto Non so il perché Ma ormai Non c'è più bisogno Di fare il collegamento Dei fili Perché per un qualche Strambo motivo E' già fatto Valla a capire Ok Ok la corrente C'è E fino a qua Non c'è piove Ora Rimane il discorso Che io non sto minimamente A capire Quali cavolo sono Queste dannate Lampadine Ma va Fangu Ma va Fangu Veramente Va Ma io dico Ma lì me le metti Le lampadine Meno male che Ci ho pensato Dico Ma chissà Perché lì Si sposta Ma io dico Ma veramente Niente così Le fanno le cose Bah Comunque Una delusione Sta a diventare Pure sto gioco L'aggiornamento Brutto Hanno semplificato Le cose Ho anche provato A ricominciare La partita Come avete detto Voi Ma niente Hanno semplificato Il gioco Io Non lo so Il perché Lo hanno fatto Boh Comunque Una missione Tanto semplice È diventata Tanto complicata Va beh Allora Ripara Trenino Cos'è questo Rimuovi componenti Difettosi Ventilare La casa Articoli suggeriti Ce l'ho già Ok Allora Dobbiamo rimuovere Prese Quelle difettose Ma dobbiamo Aprire le finestre Vuol dire Che c'è Una puzza Lì dentro Probabilmente Allora Aprire Finestre Ok Ok Le finestre Tutte aperte Poi Dobbiamo Togliere Queste Che c'è scritto Che sono Rotte Queste Sono tutte Rotte Tutte Non ce n'è una Che si salva Quindi Tutte 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 Aspetta Uno è qua Uno è qua Ok Mi pare che Ho quasi Tolte Tutte Ok Ma dobbiamo Andare giù La porta Si auto Chiude E c'è un motivo Sapete perché La porta Si è chiusa Perché Ma dobbiamo Trovare La chiave Perché La porta Si è chiusa E c'è Chiusi Dentro E Praticamente Dobbiamo Trovare La chiave Ma tanto Lo so Dov'è Perché Questa Missione L'ho Già Fatta La prima Volta Ci ho perso Un po' Di tempo A trovare La chiave Ma ormai So dov'è La chiave È qua Mi pare Che manca Una scatola E non so dove Però Aspetta Manca Una presa Una presa Una presa Una presa Una presa Eeeh Mo la Devo trovare O l'ho Dimenticata Sopra O l'ho Dimenticata Sotto Fatto sta Che Fatto sta Che una presa Mi manca Qua Ho già Fatto Fatto Ah già è vero Mi basta guardare In alto Dimentico Che in alto Dimentico Che in alto Segna Quello che Devo fare Ci deve essere Una presa Qui da Qualche Parte Ah Eccola Qua Eccola Qua Ma Cosa è La stanza Delle torture Questa Una sedia Buttata Lì sotto Da sola Allora Sta roba È tutta Rotta Rotta Si può Buttare Su quello Che è rotto Si butta E non ci si pensa più Comunque con l'ultimo aggiornamento Hanno messo Sta roba Qua Questi slot A proposito Ma se non ricordo male Qui Ecco Qui troviamo anche un cacciavite Questo cacciavite Dovrebbe essere migliore Del nostro Perché Cacciavite Veloce Mentre questo Gratuito Dovrebbe essere Più lento Quindi in questa missione Si trova Questo cacciavite Più buono Bene E fino a qua Salve Noi vicini Di casa Che bel quartiere Abbiamo recentemente Acquistato una casa Molto economica È un po' diversa Dalle altre case Della zona Ma non ci disturba affatto Prima di procedere Sicuro ci hanno torturato qualcuno Lì dentro E loro non sono preoccupati Ma tranquillo Una sedia lì Messa in quel modo Che vuoi che sia Allora Installare scatole elettriche Installare prese Installare interruttori Va bene Non mi deve mancare Niente Niente Soprattutto cavo Cavo In abbondanza Che a me Piaciugavo Ok E mi sa che Praticamente Torniamo nella casa Di poco fa Credo O è un'altra casa Forse Forse un'altra Beh comunque pochi Importa Ormai Ho già preso La roba E quindi Buona Andiamo Almeno finalmente Un lavoro Forse dove mi fanno montare Una presa Ancora io non ho avvitato Niente Non ho ancora avvitato Un bel niente Un gioco dove si fa L'elettricista E ancora non ho avvitato Niente Cos'era quel rumore Allora Ok Allora Qui ci va Un Dunque I cavi per ora No Neanche questo Dunque Dobbiamo prendere Questi Se servono Pulsante doppio Allora Qui ci va Il pulsante doppio E' bello che è segnato Qui ci va Cos'è Qui ci va Proprio questo E poi ci va Una presa Doppia Si vede che è doppio L'icona Qui almeno L'impianto Dovebbe essere Diciamo Fatto da noi Va Poi qui ci va Una presa singola Perché si vede Che è singola Qui ci va Pulsantiera Doppia Qui ci va Presa singola Qui ci va Pulsante Singolo Qui non ci va Niente Qui ci va Doppia Poi qua Non so perché Non si passa Qui ci va Una presa Singola Qui ci va Pulsante doppio Presa singola Singola Presa Presa singola Presa doppia Già Già questo come lavoro È un po' più interessante Doppio pulsante Pulsante Singolo Allora qui la corrente Non c'è Va bene Qui ci dobbiamo Mettere Questi Che me li ha Fatti comprare Va bene Eeeh Manca Forse Una scatola Elettrica Dice che manca Vediamo Vediamo qua Ok Ok Perfetto Abbiamo messo tutte le scatole Adesso dobbiamo mettere i cavi Eeeh Io vorrei fare una cosa fatta pulita Ecco perché ho comprato più cavo Perché praticamente vorrei collegare Anche se poi due mi avanzano Comunque vorrei collegare Le prese Ad un fusibile Diciamo E E I pulsanti ad un altro Ok Addirittura volendo Si potrebbe fare anche una cosa ancora più bella Tipo Potremmo Separare La cucina Che poi in cucina Che cosa c'è Solo pulsanti Ok potrei Ok Sto un attimo a riflettere Vabbè Facciamo così Non lo so Mi sto Sto cercando di inventarmi qualcosa Per fare le cose più carine No Non che sia necessario farlo Diciamo che Diciamo che questo Me lo vado a portare Qui Facciamo direttamente Adesso il montaggio Va fatto No Sopra non c'è niente Che devo fare Cioè in teoria Se sopra non c'è Scusa il filo sopra Do va Che non c'è Non c'è un filo che va sopra Io non l'ho mai messo Quindi Ma Di verità Difatti neanche me lo chiede Di fare questo lavoro Di verità non c'era neanche Non era richiesto Vabbè Va la capì Ok Allora facciamo così Un fusibile Dedicato a questa stanza Un fusibile Io fa una cosa fatta Un po' carina Ok E mo facciamo invece Dato che è fusibile Rimasti Su due Facciamo una cosa più semplice Quindi facciamo che Questo qui Lo dedichiamo tutto Alle prese elettriche E l'altro Tutto ai pulsanti Diciamo Ehm Mi invento così Ragà Tanto per fare una cosa Un po' diversa dal solito Quindi questo Me lo dedico tutto Alle prese Che poi va bene La realtà Ovviamente non funziona Così La roba elettrica Ovvio che non funziona Così E la realtà E la realtà Devi spaccare i muri Fa passare i fili L'ho fatto anche Nella realtà Quindi Ma qui È ben diverso Allora Facciamo che Vado Pulsante Qui Non ce n'è Cioè prese Prese Qui non ce n'è Qui ce n'è una Allora noi siamo arrivati qua Dovevo andare qua Quindi da questa presa Pure che consumo tanto filo Non mi interessa Ragà Voglio fare una cosa Fatta un po' pulita Un po' carina Non mi interessa il filo Se il gioco Non mi dà neanche il piacere Di fare un impianto Fatto bene Che cacchio Lo vado a fa Allora Allora C'è una presa qua dietro No? Sì Non è male che Mi ho sopportato Tanto cavo Allora Allora Mi pare che Ah c'è una presa qua dietro E un'altra qua dietro Beh facile Facile perché Lo faccio così Faccio così Ci abbiamo ancora Del filo Me lo devo fa abbastare A sto cavolo di filo Però Ma di la verità Comincio a pensare Che non me basta Facendo le cose così bene Va bene Mo Presa E Cioè insomma Come caspita Si chiamano Ma che Viene bello Però Il gioco È un disgraziato Dice no Ma passalo Come caspita Viene viene Perché se no Il filo Non te basta Vediamo Allora Ah sto Barile Qua sto Cosa In mezzo alle balle Qui purtroppo Sono andato storto Perché non è facile Andare dritto Allora Andiamo storti Come sai che non M'è basta Sto cavo Se vado avanti Così Così Ok Qui no Non me ne serve Altro Cosa manca Ancora Alimentazione Delle scatole Elettriche Sì a parte Tornando un attimino In ufficio Compra altro cavo E poi torni No Non si può fare No No Qui Bella storia Vediamo No E se vado sopra Ma la piglio In quel posto Non ci basta più Sto cavo Mi sa che Dobbiamo andare Un po' Al risparmio Allora Mi pare Che manca L'ultimo Che è qua dentro E poi Basta In te O Ria Mi pare Che non me ne sta A mancare Più nessuna Quindi Oh no Caspita Questa Accidenti E no Poi non Vabbè Qui c'è ancora La possibilità Ci potrei arrivare Non lo so 17 metri di filo Non so dove arrivo Con 17 metri di filo E' qui collegato Eh no io devo arrivare qua Eh no io devo arrivare qua Eh mo questo lo passo sotto Perché non c'è scelto Oh raga L'ho finito il filo Quindi Meglio di così Non si può fare Ma dai Comunque Non mi ha fatto Neanche aprire Una presa elettrica Ma perché L'hanno fatto così Sto gioco Perché Perché Gli sviluppatori Si buttano la zappa Sui piedi Perché La gente Crea Cioè Perché Perché fanno i giochi E poi Li fanno così Cioè Non capisco Non capisco Non capisco I giochi li stanno a fare Per i neonati Ultimamente Non lo so Veramente Ormai i giochi Li fanno Per quelli di due anni Non ho montato Neanche una Una presa Non ho Cioè Se non avvitavo io Prima perché ho pensato Mo avvito Cioè Boh Va bene che magari Più avanti Te lo fa fare Però non ha senso Un simulatore Deve essere simulativo Da quando cominci No che Dopo 20 missioni Cominci a diventare Un po' più simulativo No Non ha senso Per me non ne ha Comunque Famo questo Va che ho poco tempo Perché tanto Se devono fare pure questi Ripariamo Sto giocattolino Qua Ma io Non lo so Prima dell'aggiornamento Mi piaceva di più Se potessi tornare indietro Io tornerei indietro Di versione Perché era meglio Prima Almeno Almeno C'era da fare di più Ma Una Una delusione Così Tutto qua Sconosciuto E' buono 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 Motore rotto Sostituire Ok Montaggio E' buono Questo 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 Finito Facile Funziona o no Ok Ma che Che ve devo dire Raga Che è sta roba qua Un phon Un phon Asciuga capelli Asciuga capelli Devo riparare Ma vantola a comprare No Ma io devo riparare pure Iphone Raga Non l'iPhone Il phon Tutto 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 Qui Una volta Mi ha fatto perdere Un mucchio Di tempo Ok Che manca Allora Vediamo un po Batteria Ispezionare Rotta E la compriamo Nuova Motore Ispezione Buono Ispezione Rotto Sostituire Ispezione Ok Questo qua È da cambiare Poi Manca ancora Qualche cosa Buono Ok Riparato Quello che c'era Da riparare Quello che c'era Da sostituire Ok Ok Che dimentico Ok Poi Poi Allora Aspetta Perché c'è la custodia Posteriore La ventola E a proposito Ah si Devo saldare qualcosa Forse Ah no La ventola E collegare Questo Questo Ok Ok Fatto Questo Prova Fatto Ok Va bene Due lavoretti Di qua Due lavoretti Di là Comunque Che vi devo dire Ragazzi Sinceramente Non lo so Mi sta a deludere Un po' Sto gioco Era meglio All'inizio Wow Quest'ultimo Aggiornamento Non lo so Ragazzi Sinceramente Non ho montato Neanche una presa Niente Non so che Vedevo dire Beh io per ora Concludo il gameplay Ci penso su Se continuare a portare Sto gioco Anche perché vedo Anche che da parte vostra Vi piace così Così Quindi Non lo so Per ora Ormai l'ho registrato E lo pubblico Ragazzi Spero vi sia piaciuto Datemi un po' La vostra idea Nei commenti E ci becchiamo presto Comunque ragazzi Come sempre In altri video Ciao alla prossima Ragazzi